musica 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 buongiorno ragazzi finalmente all'alba del 22 maggio 2020 siamo tornati in sella questo in realtà è il secondo giro della stagione e oggi siamo in cinque li abbiamo tutti dietro c'è mio padre, c'è Nello, c'è il padre di Nello e il padre di un'altra nostra amica l'età di oggi le ecco ovviamente Bellagio e tutto quello che ci sta vicino poi se troviamo robina a metterci dentro ce li mettiamo dentro e via a 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 allora fatte tutte in traversati si continuiamo a fare i traversi per essere una città ha delle belle furbette pare che se li becchiamo è un miracolo ma magari con loro a 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 è più piegata di quando piego a a a post test al Politecnico non c'è niente di meglio direi a 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 pezzo enorme nello vediamo quando si raggiungono anche gli altri bene gli altri ci hanno raggiunto e adesso andiamo a Bellagio minchia che rischio mi stavo piantando di brutto c'era la pedalina che faceva pa 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 minchia la ps madonna a 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